Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa showgirl Elisabetta Gregoracci si trova in una situazione difficile, essendo stata ricoverata in ospedale. La notizia è stata comunicata direttamente dalla stessa Gregoracci attraverso il suo profilo Instagram. Una foto pubblicata su Instagram mostra la showgirl distesa su un letto di ospedale con una flebo al braccio, confermando il suo ricovero. Questa non è la prima volta che Elisabetta Gregoracci si trova in questa situazione, poiché già in passato ha avuto problemi di salute. Attraverso un post su Instagram Elisabetta Gregoracci ha dichiarato. E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me. La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui. Queste parole hanno subito attirato l'attenzione dei fan, ai quali la showgirl ha chiesto un grande favore. Nonostante non abbia specificato la causa del suo ricovero, Elisabetta Gregoracci ha rassicurato i suoi fan dicendo che non si tratta di una malattia grave. Ha chiesto loro di inviarle energia positiva mentre si riprende in tempo per il suo debutto televisivo il 26 settembre su Rai 2 con il programma Questione di Stile. La showgirl ha quindi bisogno del sostegno dei suoi fan per superare questo momento difficile e tornare in forma per il suo imminente impegno televisivo. La sua salute è al centro dell'attenzione e tutti sperano.